E cambiamo argomento e parliamo di teatro e in particolare del premio nazionale Serra Campi Fregrei. Si apre quindi il bando che resta attivo fino al 29 febbraio del 2024 per la selezione ovviamente a vocazione teatrale nell'arte del monologo che si rivolge sia ad autori che ad attori. E abbiamo oggi l'onore di avere con noi proprio qui a Mattina Live in studio i propri fondatori di questo premio del Teatro Serra. Pietro Tammaro, attore, e Mauro Palumbo, regista e drammaturgo. Buongiorno. Pietro inizio proprio da te perché per questa quarta edizione in gara due sezioni, autori ed attori. Quali sono quindi i requisiti fondamentali per accedere al premio e quali poi le indicazioni pratiche per parteciparvi? Allora, i requisiti fondamentali sono quelli che innanzitutto il premio è aperto a tutti. E la cosa importante che ci caratterizza e ci differenzia è che in un certo senso non ci sono limiti di età. E in genere i bandi arrivano massimo fino a 35 anni. Dopo i 35 anni sembra che è finita in un certo senso la vita di un artista. Invece noi diamo proprio possibilità a tutti quegli attori, agli autori, di avere la possibilità di avere una voce in capitolo anche dopo. E quindi presentare un premio, partecipare ad un premio, avere la possibilità di farsi vedere e magari rispolverare quel testo, quel sogno nel cassetto che avevi di presentare un testo inedito, sia per quanto riguarda la sezione attori puoi presentare un testo inedito oppure adattato in dialetto, qualsiasi forma, oppure da autore presentare un testo proprio scritto da te che magari poi dopo diventa anche un progetto vero e proprio di spettacolo. E di messa in scena. Che più importante. Tra l'altro ricordiamo che il bando resta attivo, questo è importante, fino al 29 febbraio. Mauro, quali sono i criteri poi per valutare i sette finalisti che prenderanno parte della serata conclusiva che si svolgerà ad ottobre proprio al Teatro Serra? La caratteristica del premio di letta è proprio quella di essere aperto verso l'esterno. Quindi noi partecipiamo per esempio alle selezioni, per quanto riguarda gli attori, ogni attore, ogni monologante viene ascoltato, quindi ci sono delle selezioni che avvengono in primavera. Ma alle selezioni della giuria selettiva partecipano tantissimi colleghi, registi, autori, attori e anche giornalisti che coinvolgiamo anche nella giuria onoraria da cui noi ci tiriamo fuori. Abbiamo una finale stabilita che sarà il 7 ottobre 2024, in cui noi non faremo parte, noi siamo gli organizzatori e per serietà coinvolgiamo, abbiamo l'intenzione quest'anno di coinvolgere tutte, anche le realtà delle scuole di Napoli, le maggiori scuole, le maggiori accademie e quindi stiamo contattando i direttori artistici, i direttori delle scuole, anche i formatori, oltre che ai giornalisti che di solito compongono poi la giuria onoraria che decreta il vincitore. Ci sarà un vincitore nella sezione attrici-attori e un vincitore nella sezione autori-autrici. Quindi due vincitori. Sì, vinceranno un premio in denaro, però la caratteristica proprio del premio è che non ci fermiamo lì, il premio è un'occasione per farsi vedere. Molti artisti che si sono messi in gioco venendo da noi a mostrare il loro monologo o semplicemente inviandolo come autore, hanno avuto modo di far nascere da quel piccolo monologo che magari aveva una bella premessa drammaturgica o un bellissimo climax, hanno avuto l'opportunità di farle diventare proprio uno spettacolo. Quindi noi l'abbiamo avuto in cartellone e hanno avuto la possibilità... Questa forse è una delle cose più importanti, no? Sì, di avere una piccola produzione. Di questo premio. Pietro, abbiamo dato spazio quindi a questa iniziativa che si colloca a pieno titolo come una delle massime espressioni della vostra missione per il teatro Serra. Quando nasce il vostro impegno per questo progetto così imponente? Questo premio è nato proprio durante il periodo del Covid, proprio perché c'è stata questa difficoltà da parte sia degli attori nel lavorare che dei teatri che hanno chiuso e noi avevamo questa paura tremenda di chiudere lo spazio, essendo uno spazio piccolo che ospita comunque soltanto massimo 35 persone. Era proprio un problema di spazio. Sì, noi non potevamo agire e quindi fare spettacoli e avevamo pensato cosa possiamo fare che viene soltanto una persona, che può esibirsi soltanto una persona e magari con una piccola giuria. Ecco che qui è nata l'idea di fare un premio per attori monologanti. E quindi durante il Covid proprio noi ospitavamo questi attori che venivano a turno e si è svolta la prima edizione proprio durante il Covid, nei periodi di apertura e chiusura che c'erano. Ecco stiamo vedendo anche delle immagini a riguardo. Mauro, il teatro poi che nasce in un luogo anche così notevole come Via Diocriziano ovviamente, quindi ha nel nome un doppio omaggio proprio per unire tradizione ed innovazione. Nel pieno dei campi flegrei, che significa campi ardenti, un po' come la recitazione, quella bella, quella che ci piace, quella realistica. Quindi anche per un artista avere un feedback da parte di una giuria può essere un'occasione di crescita. È un'occasione di crescita persino per i giurati che vengono a parteciparvi, che ogni volta ci raccontano di quanto è stato bello poter vedere talenti giovani, meno giovani. Abbiamo avuto anche persone in pensione che facevano progetti sulla ludopatia, per esempio. Un monologo interessantissimo. Abbiamo avuto vincitori. Non c'è ancora un napoletano che ha vinto il premio Serra Campi Flegrei. Diversi campani, un romano, ma mai un napoletano. Quindi lanciamo il guanto di sfida. È il momento di farlo. Può essere l'anno giusto questo 2024. Pietro, dal 2016 avete realizzato veramente tantissime attività. Soltanto la pandemia ovviamente vi ha fermato, ma neanche ovviamente, perché avete organizzato questo premio, come tu hai ben detto. Com'è stata la ripresa post-Covid? Quali sono state le difficoltà poi da affrontare? Guarda, la ripresa in un certo senso ha fatto sì che veramente venivamo fuori alla grande perché avevamo tanta grinta, tanta grinta che in questo periodo di incubazione noi abbiamo creato il premio, però c'è stata possibilità di sentire molti artisti, di progettare alcuni progetti che prima si erano arenati. Noi li abbiamo ospitati proprio al Teatro Serra e questo ci ha fatto rinascere alla grande. quest'anno il cartellone è di 14 eventi più altri due eventi che sono fuori cartellone e comunque noi diamo veramente voce laddove purtroppo gli altri non riescono ad accoglierti e quindi siamo diventati un punto di riferimento della nostra zona per molti artisti. Direi non solo della vostra zona, in che modo siete riusciti in questi anni ad avvicinare i giovani artisti? C'è stato proprio qualche evento particolare che vi ha spinto ancora di più poi a proseguire su questa strada che state tracciando da anni? Guarda, la prima cosa è l'apertura mentale, mettere da parte il proprio ego per provare a mettersi in gioco. non è importante solo quello che si fa, è quello che si condivide e quindi il lavoro alla Serra è un lavoro di squadra. È un lavoro che vede Pietro Tammaro, che è il collega migliore che potesse augurarsi uno come me. Questo è un grande complimento, Pietro. Sì, sì, ma per me vale lo stesso perché io ormai faccio l'attore soltanto per lui nei suoi spettacoli. Hai detto niente. Immagina il privilegio. E quindi, ma anche dell'ufficio stampa, Simona Pasquale, di collaboratori. Insomma, quindi è proprio una squadra. Lavorano con noi, Slaus Santos, tante persone. E quindi io penso che le persone facciano i progetti, non solo le idee. L'idea è bellissima, ma siamo ancora qui a cercare di voler far crescere alla quarta edizione del premio questa realtà. E quindi ci aspicchiamo che venga il più grande talento che abbiamo mai visto proprio in questa edizione. E noi ce l'auguriamo. Premio nazionale Serra Campi Flegrei. Grazie per essere stati in nostra compagnia stamattina. Grazie a Mattina Live. Quindi Pietro Tammaro e Mauro Palumbo. Noi ci vediamo tra pochissimo, dopo un piccolo break. Rimanete con noi a Mattina Live. Rimanete con noi a Mattina Live.